Quanti di voi hanno sempre sognato un mio slime? Ma quanti di voi non è mai riuscito uno slime? Che mi hanno contattato se la mia infanzia non mi è mai venuto uno slime? Bene, se volete un mio slime potete andare sul mio sito che è www.iorandaswiz.it e lo potete comprare addirittura con l'uovo di Pasqua Direi adesso di andare ad aprire il mio uovo di Pasqua È al latte All'interno c'è una sorpresa All'esterno c'è lo squishy e vicino c'è lo slime Lo squishy è questo Andiamo ad aprire l'uovo di Pasqua Ah, c'è la sorpresina Lo andiamo a spaccare 3, 2, 1 C'è un ovetto Ad aprire Uhuh Abbiamo trovato un piccolo adesivo Delle decorazioni Come sorpresina extra ho trovato un anellino di Pasqua E abbiamo trovato degli Charm Un gelatino Un ananas Le calette Facciamo Mmm Un po' slime In questo caso io ho questo qua giallo Niente ragazzi, l'ho fatto io Quindi lo so benissimo È un fluffy È super fluffy ragazzi Wow Se vi piacciono i design Questo è l'uovo che fa per voi Se volete anche fare un regalo originale Solo sul mio sito ragazzi Alle ore 18 Tutto